Oggi siamo qui al Pro Park sulle alture di Genova per fare un training ovviamente off-road. Il Pro Park è bellissimo perché offre dei tracciati sia di enduro che di simil cross e oggi sono in compagnia di Lorenzo Tusa di Experience4U e di Arianna Lenzi e vi faremo vedere le cose da fare prima di salire in moto. Grazie a tutti! Io lo so che quando si arriva in pista si ha una voglia esagerata di salire sulla moto, prendere in gran era prima e partire andare. Non si fa molta attenzione invece a quello che è l'attivazione muscolare, quindi la preattivazione, quindi prima di salire sulla moto ci sono degli esercizi che è utile ed molto efficace farli perché ci aiutano a gestire meglio quello che è lo sforzo del corpo e soprattutto anche del cuore quando ci troviamo ad affrontare dei tracciati di off-road. Sono in compagnia di Lorenzo Tusa di Experience4U. Lorenzo è un endurista, Lorenzo organizza anche delle escursioni in moto e in fuoristrada, quindi comunque un ragazzo con un'esperienza notevole. Ti chiedo, tu hai mai fatto degli esercizi specifici per andare in moto o tutto quello che è il riscaldamento prima di salire sulla moto? Allora, io diciamo che mi alleno settimanalmente anche in palestra per cercare di mantenere un po' di tonicità e quindi avere una buona prestazione sulla moto, però mi manca molto la parte di attivazione muscolare pre-allenamento. Pre-allenamento. Quindi oggi te la farò provare e noterai fin da subito la differenza tra il salire sulla moto senza aver fatto nulla prima e invece avendo fatto quello che è l'attivazione dei muscoli che poi andrai ad usare mentre guidi la moto. Molto bene, proviamo! Allora, Lorenzo, partiremo dalle gambe, ok? Quindi tu seguimi. Divarica le gambe, tieni le punte leggermente in apertura, ok? Andiamo a fare praticamente dei piegamenti, prima da una parte e poi dall'altra. Come sappiamo in off-road dobbiamo alzarci in piedi, sederci, no? Quindi dobbiamo abituare comunque la muscolatura alla contrazione e all'estensione. Quindi facciamo appunto questi esercizi di stretching dinamico. Adesso ci fermiamo da questa parte, ti chiedo di ruotare la gamba dietro e di spingere il bacino in avanti. Perfetto, in questo modo sentirai sicuramente allungare questa parte, ok? Che è l'ileopsoas, che è un muscolo che viene molto sellecitato quando si va in moto, quindi è sempre meglio tenerlo molto allungato e molto allenato per questo. Senti? Dalla faccia! Ok, adesso cambiamo gamba, lo facciamo dall'altra parte, quindi sempre il bacino che spingi in avanti, tieni le spalle più aperte possibili. Allora, ritorniamo con i piedi paralleli e facciamo quelli che, mettili proprio sotto alle anche, no? Un po' come l'apertura che abbiamo più o meno sulla moto, ok? Andiamo a fare quelli che si chiamano squat, nel fitness generale si chiamano squat. Quindi piego e stendo le gambe, proprio ci sono dei piegamenti sulle gambe, in cui anche qui andiamo ad abituarci, no? Al sederci sulla moto invece a spingere poi sulle pedane per alzarci. In questo modo stiamo riscaldando tutta la parte dei quadricipiti, ma anche dei femorali e dei glutei, che servono tantissimo in moto. Perfetto. Adesso, da questa posizione, ti chiedo di sollevare i talloni e le punte, con le gambe tese, quindi andiamo a fare un po' di mobilità sulle caviglie. Anche questa la motivazione è per il fatto che stiamo comunque sempre molto in piedi sulle pedane. Le caviglie ci servono per frenare o per cambiare. Ti ci ritrovi in tutti questi movimenti che ti stiamo facendo fare? Molto conosciuti. Molto conosciuti. Esatto. Ok. Per poi passare alla parte alta, quindi andiamo a sciogliere le spalle. Perché anche queste vengono molto sollecita. Ecco, vedi? Cambiamo il giro, quindi lo facciamo in avanti, cercando di appunto fare dei cerchi molto grandi. Adesso torniamo indietro con le braccia tese questa volta, quindi le braccia passano il più possibile vicino alle orecchie e scendono. Ok. È già affaticato così, eh? Pensa quando vai in moto. E la stessa cosa cambiando il verso del giro. Partiamo da dietro. Ok. Inspira e lascia andare. Sempre la respirazione. È molto importante quando si fa esercizio, è quello che ci aiuta anche a mantenere il controllo, mantenere la calma e abbassare la frequenza cardiaca. Ok. Stretching della testa, del collo. Esatto. E dall'altra parte. E intrecciamo le dita, le mettiamo dietro la mucca e portiamo il mento vicino alla gola. Allora tu rimani pure così. In stretching della cervicale. Questo esercizio è utilissimo soprattutto per chi soffre appunto di cervicale o per quelle persone a cui si addormentano le dita mentre si va in moto. Il più delle volte è appunto dovuto da problemi alla cervicale. Oltre a sentire allungare la cervicale senti anche sicuramente fino a metà schiena tutta la zona del dorso. Dice di sì. Sta dicendo di sì. Ok. Ritorna pure su lentamente. Portiamo le braccia all'altezza delle spalle e andiamo a fare delle torsioni. Quindi lo sguardo rimane sempre rivolto in avanti e vai a fare delle torsioni con il busto. Allora passiamo alla fase un pochino più dinamica del riscaldamento e ti chiedo di afferrare il manubrio ok di impostarlo proprio come se tu fossi in moto ok io tengo l'elastico quindi ti faccio da resistenza e tu andrai a fare delle trazioni per andare proprio a lavorare sulla parte dorsale ok quindi vai a chiudere le scapole vai devo mettermi bene esatto piantati bene sulle gambe vai cerca sempre di respirare anche di diaframma quindi portando l'aria nella pancia e non nel petto immagina di avere un palloncino nella pancia e di volerlo gonfiare ok mi fai ancora un paio perfetto ok la stessa cosa te la faccio fare ma in spinta quindi vediamo se riusciamo con il manubrio allora lo devi mettere attorno alla schiena praticamente infilaci la testa dentro ok perfetto perfetto fai passare le braccia sotto ok e 1 e 2 ok ok girati anche se vuoi un pochino più in diagonale ok e adesso fai proprio vai a simulare invece il momento in cui andiamo a spingere invece sul sul manubrio ok ok poi l'aria quando spingi perfetto e stop ok ok adesso cosa cosa importantissima soprattutto per evitare l'indurimento degli avambracci è andare a strecciare e a mobilizzare quelli che sono i polsi quindi lo puoi fare o appoggiandoti alla moto quindi proprio banalmente questo quindi andare ad appoggiare i palmi delle mani ok e a girarli in tutte le direzioni per far sì che tu appunto avverta lo stretching su questa parte qui dell'avambraccio vieni pure da dietro esatto esatto prova bravissimo prova a stendere le braccia riesci a stendere allontanati casomai esatto questo si può fare appoggiati alla sella ma si può fare anche appoggiati agli alberi o al furgone ovunque o a terra veramente ovunque doloroso lo fai mai? no doloroso quanto basta ma efficace ma da oggi lo farà da oggi sì intreccia le dita e sciogli verrà meglio le prossime volte questo sono molto coordinato in questa cosa da una parte e anche dall'altra questo questo è il mio piatto forte questo è il suo cavallo di battaglia lo terremo per i momenti clou ok allora ti faccio fare un'altra cosa invece questa è per le gambe quindi ti faccio mettere la pallina tra le ginocchia ok vai in un semi squat ok cerca di aprire il petto più che puoi e vai a fare delle piccole compressioni per andare ad attivare quello che è all'interno coscia che ci serve appunto per governare la moto per guidarla per tenerla e ovviamente per divertirci di più senti la muscolatura che si attiva poi ovviamente più ne facciamo più si sente calcoliamo che in genere possiamo farne 100 ok 100 è già un buon numero affinché si possa sentire l'efficacia dell'esercizio io ne farò 20 lui ne farà 20 perché è già stanco in questo momento ok bravo l'importante è che tu abbia sentito l'attivazione ok passiamo invece alla fase in cui andiamo ad alzare un pochino il battito cardiaco ok perché sappiamo che andando in moto comunque anche il cuore va sotto sforzo quindi facciamo dei piccoli esercizi cardio che alzano sia il battito cardiaco sia aiutano proprio l'ossigenazione dei muscoli e quindi evitiamo hard pump evitiamo tutti i vari dolorini che sappiamo allora partiamo con i piedi uniti braccia tese lungo i fianchi e andiamo a fare quelli che si chiamano jumping jacks quindi apro e chiudo ne facciamo dieci uno due dieci piedi uniti dei piccoli saltelli morbido sulle gambe e ripartiamo con i jumping jacks vai uno due tre cinque sei sette otto nove dieci piccoli saltelli piedi uniti e stop e stop caldo allora sicuramente è caldo sicuramente vedrà la differenza e allora sono esercizi che veramente se uno li sa li sa fare li conosce ci vogliono veramente dieci minuti quindici al massimo ok quindi in quindici minuti veramente si può fare poi la differenza su quella che è la gestione della moto il divertimento la sicurezza e appunto si diminuisce il rischio di infortunio allora lorenzo come è andata come ti sei trovato sicuramente sono caldo bene e direi che sono pronto a salire in moto bene quindi fate tutti voi come lorenzo dieci minuti quindici al massimo vi cambia veramente la giornata a salire in moto come lorenzo a salire in moto a salire in moto Grazie.